buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video qui nell'ottavo episodio dove allora sono stati in live e abbiamo fatto un po' di cosine dunque abbiamo messo i supring qui ho raccolto un po' di gomma abbiamo fatto la coltivazione per il filo abbiamo fatto due electrical engine con queste seghe abbiamo fatto questi due solar panel di questa mod e ora dobbiamo andarli a piazzarli molto semplicemente allora dobbiamo farci una powering for mace come si fa? machine frame allora iniziando subito che ossidi i diamanti dunque machine frame così molto semplicemente abbiamo non tutto ma no 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 dobbiamo cuocere un ferro guardate quanto materiale un ferro così un ferro un ferro un ferro un ferro un ferro ok facciamo un ferro quindi del vetro che si fa così allora del ferro del vetro che si fa cobblestone grass block e sand quindi della sand ok quindi abbiamo 4 di iron dobbiamo fare vetro poi che altro dunque due bricks ce l'abbiamo e perchè i brick ci sono serviti per fare ah appunto l'alloy for mace allora dunque e cos'è si per fare quindi questo l'abbiamo redstone reception ah un oro e devo fare un oro abbiamo un oro si che ce l'abbiamo ok dunque oggi devo riandare in live no aspettate era così è così giusto? giusto quindi quindi poi machine frame si fa con un altro gold ingot due tre redstone devo prendere quindi due redstone così un gold facciamo un redstone reception coil redstone reception coil qua questo qui machine ah no aspettate allora così così ok ok webbrix qua poi redstone reception coil qua qua poi redstone reception coil qua la redstone qua ehm machine frame e no machine frame e due copper facciamo la powerade for this allora per farvi vedere l'utilizzo allora per farvi vedere l'utilizzo vi metto qui così facciamo solo questo oggi perchè devo scappare quindi facciamo l'utilizzo vi faccio vedere allora qui ci mettiamo un po' più al lato ok ehm ci mettiamo questa qua la powerade for this e sopra i tronchi due pezzi due solar panel poi ci serve una vabbè va bene anche questo però no 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 vediamo vediamo anche un pezzo di sabine facciamo così aspetta ok va bene guardate 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 da mua guardate così e così così quindi stick e una condison facciamolo in lever ah perchè ho tanti stick perchè ho sbagliato con lo fabricator ce l'avevo acceso e quindi ho fatto l'ho fatto in live appunto quindi lol allora ovviamente l'energia è pochissima queste si passano all'energia quindi non è un problema vedete vedete si è acceso si è acceso oppure poca l'energia però pian piano vedete si inizia a caricare ok vedete vedete piano piano si scalda inizia a caricare bene 5 minutini piccolo oggi il video ma io vi direi dunque il fine settimana sono caratteristici live quindi specialmente la domenica sabato non lo so perchè esco il sabato quindi può essere anche di nuovo la domenica questi sicuramente il pomeriggio ok vedete lo posso metterci a cuocere tutto vedete inizia cioè lui va ovviamente spruica tanta energia non ce la fa il motorino gli dovremo fare altri solar panel ok bisogna fare il solar panel tagliando questi vedete si come va a fare qui tutto il resto me lo faccio offline ok va bene beh per oggi è tutto anche se sono 6 minuti per oggi è tutto grazie 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 grazie